Buongiorno a tutti amici, buongiorno. Prima di tutto auguri, auguri, buon Natale e che possiate essere sereni davvero e felici. Io come da mia consuetudine il giro a Natale o a Santo Stefano qualche ora nelle mie valli sconfinate ci deve essere e di buon auspicio per l'anno nuovo che verrà in questi ultimi giorni dell'anno e come sempre che spettacolo stamattina, che spettacolo. Come sempre arrivo in questa altura tramite bellissimo bellissimo sterrato infinito che è questo che percorre sale tutta la collina fino in questo punto dove tanti anni fa piantai per gioco un alberello di pino il mio alberello di Natale non c'era la pala non c'era niente qui sopra e devo per forza venerlo a trovare qui sono passati tanti tanti anni è diventato grandicello qui il metal niente questo pino bellissimo adoro questo sterrato adoro adoro per salire qui sopra qui davvero c'è pace c'è infinito qui assoluta vera pace buon natale a tutti